C'era una bellissima canzone che diceva Vieni c'è una strada nel bosco, il tuo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Beh, era una canzone, neanche so se le parole siano state esatte, ma era una canzone che parlava di una strada, di una strada come quella che noi dovremmo raccontarvi un pochino più spesso, visto le persone che ci hanno scritto, che ci hanno telefonato, che ci hanno cercato, che ci hanno chiesto aiuto per segnalare quello che accade nella zona di Madonna Alta. La scuola, l'incrocio, gli uffici, il centro sportivo, ce n'è di tutto e di più in quella zona di Madonna Alta. Sta di fatto però che quando tutti insieme decidono di partecipare, il traffico va in tilt, non ci sono i posteggi, non c'è il modo di lasciare le macchine, non c'è il modo di uscire e di entrare, e diventa un filimondo quando i genitori degli alunni che vanno a scuola lì si presentano il pomeriggio per quelli che sono i colloqui con i professori. Apriti cielo quello che accade, le macchine messe sopra i marciapiedi, che intraccia nel traffico, eccetera, eccetera. I genitori che si sono rivolti a noi ci hanno detto che sono anni che la situazione è così, sono anni che questa situazione è stata raccontata, è stata denunciata al comune, addirittura si risale indietro nel tempo al sindaco Locchi che aveva detto vedremo di fare qualche cosa di importante, poi siamo passati a Boccali e anche Boccali aveva detto non vi preoccupate cittadini di Madonna Alta, anche noi faremo qualche cosa, anche noi vi daremo una mano, un po' come Mattarella diceva ai terremotati non vi lasceremo soli. Sta di fatto che quella strada né con Locchi né con Boccali è stata fatta e poi arriva la sconfitta del Partito Democratico e la vittoria del centro-destra. Coloro che dovevano rappresentare il nuovo, coloro che erano stati indicati dai cittadini come il nuovo, che non avevano più voluto quello che era il PD e le logiche del PD e del partito, degli amici, eccetera, eccetera, arrivano quelli del centro-destra e dicono questa strada sa da fare, tant'è che c'è una delibera, tant'è che la delibera con il progetto annesso aveva già stabilito tutto quello che era, poi all'improvviso la delibera scompare, viene ritirata, viene annullata, la delibera improvvisamente non c'è più e quella strada che si doveva fare, l'improvviso non si fa più. Beh, noi vi faremo vedere le immagini nel corso delle prossime puntate, perché quando una persona ti viene a cercare per dire ho bisogno di questo, noi lo abbiamo sempre fatto, gli amici del centro-destra che adesso governano il Comune di Perugia sanno perfettamente quante volte mi sono dato da fare perché le cose fatte dall'amministrazione di centro-sinistra non andavano bene. Al sindaco Andrea Romizzi ho detto io non voglio niente per questa elezione che tanti dicono sia merito anche mio, però ricordatevi che così come io protestavo quando c'era il centro-sinistra per le cose che non andavano bene, allo stesso modo farò quando le cose non vanno bene con il centro-destra e in questo momento per quella strada che doveva essere fatta e che non è stata fatta, per risolvere un problema che dovrebbe essere risolto in un centro importante come Madonna Alta, allo stesso modo mi prenderò a cura di questo problema. Sarà giusto? Sarà sbagliato? Tasso prenderà una gantonata e sarà ancora una volta quello che chiacchiera a vanvera? Non lo so, sta di fatto che lo spirito di Don Quisciotte, nonostante che non ci sia più, dentro è ancora vivo. Nonostante tutto, la mia più cordiale buona serata. Grazie a tutti.